ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su lele king tv lol ma che non stiamo spacchettando le lol stiamo spacchettando le figurine no perché ho detto ho fatto la rima pure hai fatto la rima va bene ho visto l'album hai visto l'album allora va bene se hai visto l'album perché noi portiamo anche l'album delle lore surprise della vanini ma questa volta facciamo peppa pig della jetis quindi ragazzi iscrivetevi al canale se non siete iscritti perché qui su questo canale vedrete oltre alle figurine di peppa pig anche quelle delle quindi ragazzi adesso abbiamo questi tre pacchetti oggi apriamo questi tre pacchetti di peppa pig che potete vedere questi pacchetti ogni pacchetto un personaggio c'è papa pig abbiamo mamma pig e poi abbiamo george poi c'è anche peppa noi per adesso abbiamo questi tre personaggi quest'oggi apriremo questi tre pacchetti faremo uno spacchettamento e poi nel prossimo video faremo il cello mi manca allora spacchettiamo il primo e e vediamo cosa esce fuori non c'è sande le carte no qui non ci sono le carte sono solo figurine queste qui vediamo oh il dinosauro di george george eccolo qui tutto giallo disegnato wow mi padre che schifo ci sarà una cacca quello è l'alfabeto di george dentro dei siedi george di peppa pig c'è tutto l'alfabeto la doppia v di padre ma questo non è doppione ma sai questo ce l'abbiamo doppione non vorrei insistere questo è richard coniglio è l'amica di peppa e poi ci abbiamo peppa pig con i suoi compagnucci di classe poi abbiamo la i di impiegato che è papà di papà il papà di quella esatto non del papà di peppa e poi abbiamo peppa è un maiale di lei di lui ok abbiamo l'altro pacchetto quello abbiamo prima papà pig sì di solito i puoi vabbè allora apriamo apriamo il pacchetto ecco qui vai di la fuori non rompere le figurine no no facciamo attenzione a non rompere le figurine facciamo attenzione facciamo attenzione facciamo attenzione qui c'è un puntino con scritto re la nota poi c'è una figura che non si capisce bene è la maestra di peppa pig l'hai riconosciuta dal vestito dice che è la maestra di peppa pig questo è un salvatanaglio con un fiore ma dopo controlliamo quanto facciamo il cello mi manca non perdetevelo il cello mi manca di questa raccolta poi troviamo questo nonno cane nonno cane il nonno del canetto poi qui c'è un piccoletto del carino questo e mi sa che è lo zio di peppa pig si e poi c'è pure il cuginetto il cuginetto piccolo e qui c'è george che abitava la casa di baby brown che suona è piccolo piccolo ti ricordi appena sono andati a trovarli alla punta sono andati a trovarli che papà pig faceva suonare sempre l'antifurto te lo ricordi si che faceva quel piccoletto ecco ci ha aperto abbiamo oppela vai prima figurina c'è un vestito tutto sporco di fango anche secondo me la mamma questa chi è questo personaggio è quella sempre quella come si chiama susi la coniglietta no qui c'è una nota dopo poi un'altra volta il coniglietto e qui si vede un pezzo di mamma pig con è vero proprio mamma pig allora ragazzi per lo spacchettamento di peppa pig della jetis è tutto ci vediamo nel prossimo video in cui faremo il cello mi manca di questa raccolta esatto e se non siete iscritti al canale iscrivetevi attivate la campanella ciao a tutti ciao a tutti Grazie.